Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Nella serata di ieri si è verificato uno scontro tra un treno intercity e un treno regionale lungo la tratta ferroviaria Bologna-Rimini, nelle vicinanze di Faenza. L'incidente ha causato 17 feriti, con squadre dei vigili del fuoco da Ravenna e Forlì intervenute prontamente. Le operazioni di soccorso hanno portato all'interruzione della circolazione ferroviaria tra Castel Bolognese e Forlì. La colazione ferroviaria tra Forlì e Faenza sulla linea Bologna-Rimini rimarrà sospesa almeno fino alle 10 di stamattina. A seguito dell'incidente, i treni ad alta velocità da Rimini a Faenza sono stati deviati attraverso un percorso alternativo via Ravenna, subendo ritardi superiori a 60 minuti. I treni regionali veloci Piacenza-Ancona seguiranno una deviazione via Faenza-Ravenna, effettuando tutte le fermate tra Ravenna e Rimini. I treni regionali veloci Bologna-Ravenna-Rimini sono cancellati tra Ravenna e Rimini. Le cause e la dinamica esatta dell'urto sono al momento in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, intorno alle 20 di ieri sera, il macchinista ha prontamente ridotto la velocità del freccia, accorgendosi dell'ostacolo sui binari, al fine di evitare gravi conseguenze per il personale e i passeggeri. Grazie per aver guardato il video iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.